Ciao ragazze, eccomi qui con un altro video, allora come avrete capito dal titolo è un video sul Cosmoprof o Cosmoproof, non lo so ma io dico Cosmoprof Allora, quest'anno il Cosmo è dal 18 al 21 se non erro Che cos'è il Cosmo? Allora, per chi non lo conoscesse è la fiera dell'estetica e della bellezza e ci sono tutti stand inerenti a unghie, a trucco, a prodotti per centri estetici, prodotti bio, prodotti sia internazionali che nazionali insomma è il paradiso per le donne sicuramente ma anche per determinati uomini quest'anno ripeto è dal 18 al 21 sempre se non vada errata ci sono anch'io, siiii no vabbè, faccio questo video per mettervi a conoscenza di questa cosa cioè che c'è questa fiera e che se acquistate il biglietto online lo pagate veramente tanto, 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 tanto in meno quindi se avete idea di andare sicuramente acquistate il biglietto online uno è cosa fondamentalissima, saltate la fila quando siete lì cioè voi arrivate ed entrate direttamente in fiera e due perché lo pagate la metà cioè anzi forse uno, cosa importantissima perché lo pagate la metà e due, altra cosa importantissima perché saltate la fila quindi cosa che farò anch'io, lo acquisterò online sostanzialmente da come parlano sul sito e roba varia è una fiera per professionisti del settore ma sostanzialmente io ho visto anche bambini all'interno della fiera e non penso siano professionisti del settore quindi potete entrare anche voi ci sono alcune aziende che vendono solo a chi ha partita IVA altre invece che vendono tutti indistintamente come per esempio il reparto unghie tranne ad eccezione mi sembra di aver capito di C&D della Shellac che vende solo a chi ha partita IVA però sostanzialmente si risparmia parecchio quindi se siete in zona Bologna o comunque se vi va di farvi un giro andateci perché è veramente bello io ci sono andata per 4 anni di fila l'anno scorso mi sembra di non esserci andata no, non ci sono andata e quest'anno ci ritorno ci sarò per due giorni quindi se vi va, se vi interessa ci possiamo conoscere mi farebbe veramente tanto piacere ci possiamo conoscere di incontrare e se vi va fatemelo sapere con un commentino al di sotto del video in modo tale che crea una sorta di evento insomma diciamo così con un orario e un appuntamento in modo tale da sapere dove possiamo vederci ma comunque sono lì che girò nella fiera fermatemi tranquillamente ovviamente se vi va e non vi imbarazzate perché tanto sicuramente sarò più imbarazzata io di voi e niente questo è tutto sicuramente sarò lì lunedì sulla domenica o sul sabato ci sono un po' di indecisioni mi devo ancora decidere ma con certezza sono lì lunedì appena ho notizie certe ve lo comunico su Instagram Facebook, Twitter insomma tutto il parterre dei social e magari se riesco se mi ricordo vi metto anche in una nuvoletta qui in modo tale da farvi sapere meglio le mie date ma vi ripeto sicuramente ci sono il lunedì quindi l'ultimo giorno e molto più sicuramente penso che sia la domenica rispetto al sabato ma questo è ancora da decidere e niente questo è tutto io spero di incontrare qualcuno di voi perché veramente mi farebbe tantissimo piacere e mi scuso in anticipo se magari non ricordo chi siete o il nick ma siete tante e quindi magari mi può essere sfuggito qualcuno mi può sfuggire qualcuno di voi poi la timidezza farà il suo carico sicuramente mi dimenticherò sicuramente anche come mi chiamo quindi tranquille tra me e voi sarò sicuramente più agitata io e niente questo è tutto spero che questo video vi piaccia spero di incontrarvi mi farà sicuramente tanto piacere conoscervi e fatemi sapere voi con un commentino al di sotto del video se avete qualche novità tipo stand nuovi o comunque qualche stand dal quale poter prendere campioncini e roba varia e che altro dirvi niente io vi saluto ci vediamo nel prossimo video e spero anche al cosmo un bacio e ciao ciao